Gentili telespettatori, buona giornata. Gli episodi particolari attorno a Meloni, servizi segreti, sicurezza per la Repubblica, episodi come il caso del finanziere Striano, di cui poi praticamente, data anche la complessità del tema, non se ne è occupato quasi più nessuno. Il famoso dossieraggio dove erano attenzionati soprattutto esponenti di centrodestra, beh, la scorta di Meloni nella notte tra il 30 novembre e il primo dicembre sotto casa del premier ferma due uomini che armeggiano attorno all'auto dell'ex compagno Andrea Gianbruno, detto Ciuffetto. I due uomini fermati in quell'occasione, due agenti dei servizi, identificati da un carabiniere di scorta, sarebbero poi stati allontanati da Roma, assegnati a missioni all'estero, addirittura li hanno mandati all'estero, in esilio. Poi avevano detto, ma no, ma quali agenti? Erano due ladri di gomme. Voi sapete che la Meloni si fida solo della sua scorta, perché è stata selezionata dal capo scorta che è il marito della potentissima Scurati, la sua assistente, e quindi lei si fida solo della sua scorta e la sua scorta ha identificato proprio due agenti dei servizi di sicurezza dell'Aise, servizi segreti, apparati di informazioni, cosa stavano facendo sull'auto di Gianbruno? Microspie? O addirittura manomissione dei freni? Quello è un fatto veramente, ma veramente inquietante, perché insomma il dossieraggio su esponenti del centrodestra italiano, gli agenti degli apparati di sicurezza per la Repubblica che armeggiano sulla macchina di Gianbruno, scoperti e allontanati, trasferiti in missioni all'estero, magari sulla luna. La Meloni prova a interpretare questi segnali. Svaliggiate la casa di fronte alla vecchia abitazione di Giorgia Meloni. Ah, questa è una cosa che non sapevo. Negli ultimi mesi annotiamo anche questo. Svaliggiate le case di fronte alla vecchia abitazione di Meloni e poi a breve distanza un nuovo furto in quella accanto alla nuova. Perché? Viene simulato un furto per mettere delle telecamere nascoste? Per introdursi in una casa simuli un furto, metti tutto a suo quadro e metti delle telecamere? Come quelle che hanno spiato per anni toti? La Meloni dice io mi fido totalmente di Alfredo Mantovano e di Elisabetta Belloni. Ma questo non esclude che il capo del governo teme altri pisti, altri soggetti, altri scenari contornino l'azione politica del suo governo. L'ipotesi Bisignani-Mancini, il giornalista è l'ex dei servizi segreti con Renzi che sarebbe sempre il regista di queste cose, lascia il tempo che trova. La domanda che si fa alla Premier è chi ha interesse a corrompere e inquinare il quadro? Confondendo la visione della Premier e seminando perfino zizzania tra lei e il ministro Crosetto dice che chiunque sia non rende un buon servizio alle istituzioni che è chiamato a difendere. C'è tra le agenzie Aisi e Aise un conflitto interno? C'è un conflitto tra l'arma dei carabinieri e la guardia di finanza? Bah, lo stesso allontanamento di Mancini? Beh, dall'ottobre 2022 ad oggi qualche avvertimento sinistro poco interpretabile c'è. C'è stata la nomina di Valensise a capo dell'Aise, un incarico voluto da Meloni in contrapposizione all'indicazione di Del Deo, già vice direttore del servizio segreto interno, caldeggiata da Crosetto. Il quotidiano domani rivela di due agenti beccati dal carabiniere davanti alla macchina di Gian Bruno, fatto accaduto cinque mesi prima. So quali sono i complotti eventuali da dove vengono. È ben saldo ma la vulnerabilità del sistema ben visibile urge una rimessa in forma degli apparati di sicurezza, una messa in sicurezza della sicurezza, un lavoro di intelligence sull'intelligen. La storiella di Bisignani, Mancini e Renzi appare solo una macchinazione ideata per sviare da sospetti concreti. Allora, perché i servizi si chiamano apparati di sicurezza della Repubblica? Allora, la struttura è una cosa visibile, la struttura dell'armadio è quella lì, no? La struttura, i due assi portanti, gli scaffali, la struttura. L'apparato è una cosa che non si vede ma c'è. Quindi quando si parla di servizi segreti non si dice la struttura dei servizi segreti perché non è visibile e allora è un apparato. L'apparato è una struttura non visibile e da questo si dice gli apparati dei servizi segreti. Bene, c'è qualcosa che evidentemente si muove dietro le quinte. C'è qualcuno che sposta tavoli, sedie, fa mezzi traslochi, cosa facevano gli agenti dei servizi alla macchina di Gian Bruno? E i furti davanti la vecchia casa della Meloni, vicino la nuova casa della Meloni? Come mai? Stanno, hanno messo telecamere che controllano 24 ore su 24 la casa di Giorgia Meloni? Per vedere chi entra e chi esce? Per fare dei dossier? Per eventualmente ricattare la Presidente del Consiglio? Scoprire chissà che cosa? Capisco che evidentemente i servizi di sicurezza della Repubblica attenzionano chiunque la Meloni possa trasformare il potere, perché il loro compito non è solo quello di informare chi governa, ma è anche controllare chi governa per evitare che possa compiere chissà quale strana visione o prospettiva. Capisco che ci sia anche evidentemente il timore che la Meloni possa trasformare il potere che ha in un potere dittatoriale, cosa che secondo me è assolutamente improbabile, però i servizi hanno il compito anche di verificare le cose meno probabili, quindi probabilmente il loro compito è anche quello di sorvegliare la democrazia, però qualcosa evidentemente si muove. Grazie a tutti e arrivederci a presto.